Ripartiamo in sicurezza e questo lo slogan della nuova ordinanza emanata dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per disciplinare la fase 2. Alla luce del bollettino giornaliero dei contagi che sta vedendo una notevole decrescita della diffusione del virus, il Presidente ha deciso di concedere qualche libertà in più ai pugliesi. In Puglia infatti si sono registrati solo 22 casi positivi così suddivisi, zero nella provincia di Bari, tre nella provincia di Bat, zero nella provincia di Brindisi, 15 nella provincia di Foggia, 4 nella provincia di Lecce, zero nella provincia di Taranto. Sono stati registrati due decessi, due in provincia di Bari. Cosa cambierà quindi dal 4 maggio? Ci sarà l'obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni per chi rientra da fuori Regione per soggiornare in Puglia e sarà permessa la manutenzione nelle seconde case di proprietà. Dal 29 aprile invece sarà già possibile usufruire della ristorazione con asporto, con divieto però di consumazione all'interno e all'esterno dei locali. Saranno riaperti i centri di toilettatura e animali di compagnia, ma si potrà curare il proprio amico a quattro zampe solo previo appuntamento. Il Presidente ha dato il suo consenso inoltre alla pesca amatoriale ed alla ripertura di attività di manutenzione e riparazione e imbarcazioni da diporto. Inoltre sarà possibile anche andare a visitare i difunti, in quanto saranno aperti gli accessi ai cimiteri. Emiliano ha emanato l'ordinanza in vista dell'avvio della fase 2, prevedendo la ripartenza di alcune attività. Il provvedimento è stato prima condiviso in una lunga riunione convocata dal Presidente con il Comitato di Sindaci Anci Puglia, alla presenza anche del professor Pierluigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione. L'obiettivo dell'ordinanza del Presidente, come lui stesso ha spiegato, è tenere a freno l'epidemia parallelamente alla progressiva ripartenza della fase 2, modulando a livello regionale la rigidità delle norme nazionali, come sta accadendo in altre parti d'Italia.